Strategie condivise per favorire la ripresa economica regionale ma anche un nuovo contributo in vista dell'imminente rinnovo di Camera di Commercio Chieti Pescara. A lanciare i temi in un incontro in provincia Chieti alcune associazioni datoriali e sindacali. Situazione socio-economica del territorio molto difficile. Nel 2021 si è registrata una generale diminuzione della popolazione regionale con un preoccupante decremento di quella giovanile di quattro volte quella nazionale. L'export è cresciuto appena del 5% dato che pone l'Abruzzo al terz'ultimo posto della graduatoria nazionale. Crescita insufficiente nel credito alle imprese appena 22 milioni che in valori percentuali è pari ad un ottavo di quella italiana e così come modesta è stata quella del numero delle imprese che in valori percentuali è il 30% in meno del valore nazionale. Novembre poi si presenta come un mese complicatissimo come spiega Marisa Tiberio presidente Conf Commercio Chieti. Un mese di novembre drammatico per le imprese sia per i consumi che sono quasi azzerati ma anche per la concomitanza delle scadenze fiscali. A ciò si aggiunge anche l'inflazione che ha raggiunto quasi il 12% il protrarsi dell'estate che ha un po' impedito la partenza della stagione autunnale. Ci siamo anche costituiti come gruppo apparentato per concorrere al prossimo rinnovo camerale che sappiamo che sarà fra poco più di un mese ma abbiamo anche rappresentato il nostro rammarico per il fatto che non sappiamo ancora in via ufficiale chi sarà il candidato presidente, il suo programma e soprattutto la sua visione del futuro in prospettiva di un 2023 che sarà un anno molto difficile e anche della visione che vorrà avere per affrontare questo momento. Altro tema lanciato l'accorpamento stabilito nell'ultima delibera di giunta camerale dell'azienda speciale Aspo per i porti di Ortona e Vasto nell'azienda speciale agenzia di sviluppo bollato come una chiusura da Mario Miccoli presidente dell'azienda speciale Aspo Ortona Vasto. Un accorpamento significa a mio avviso la chiusura di un'azienda speciale perché è vero che l'agenzia di sviluppo si occupa dello sviluppo del territorio ma la peculiarità che l'Aspo poneva in essere rispetto alla tutela della portualità dell'offerta portuale del nostro territorio era specifica nella materia. E quindi voi siete molto preoccupati? Siamo amareggiati e preoccupati perché la scelta unilaterale della giunta così come vi ho fornito dal punto di vista documentale è avvenuta in piena autonomia non siamo stati né auditi e né è stato audito il territorio per capire se questa realtà poteva essere ancora strategica e interessante dal punto di vista dello sviluppo delle portualità del nostro territorio.